Amare è uno scontro di lampi e due corpi da un solo miele sconfitti, diceva Pablo Neruda, il famoso terzino dell'Atalanta. Il miele, quindi, maestro, il miele! La donna dalle chiome nere cammina innanzi a me. Io seguo e guardo il belvedere ondeggiare davanti a me. Quando ecco! S'alza un po' di vento! Grazie mio Dio! La donna balza su! Maestro, per favore si contenga. Minchia è troppo, scusi. Meno male che non l'ho microfonata. Questione di un momento, sì! Un momento solo, ragazzi, ma chi se ne scorda più? Perché si sa, l'uomo, ragazzi, è farfallone. Farfallone traditore! E all'occorrenza arriva alla spudoratezza di inventarsi una sua filosofia di vita. A proprio uso e consumo e a proprio comodo lo sforcaccione! Recita un antico adagio livornese. Chi tromba solo la sua moglie non vuol bene neanche i suoi figlioli. Perle di saggezza, c'è poco da fare. Chi tromba solo la sua moglie non vuol bene neanche i suoi figlioli.